E come... come sta la tua mamma, Ray? Ogni volta che viene lei e papà dormono nello stesso letto. E manca... Ti interessano solo i tuoi sentimenti! Guarda dove ti hanno portata! Tu e i tuoi sentimenti! A te non interessa niente dei miei sentimenti! Sono andati a vivere insieme. È mia moglie. Si è mai comportata come tale. Mi amava così profondamente che quando provai a lasciarlo, lui cercò di spararsi. Ben! Non chiederò mai il divorzio, Cristina. Tu hai bisogno di me. Vorrei che tornassi tutto come una volta, quando eravamo amici. Tu non ami la mamma e non ami nemmeno me! Non devi pensare che io non ti voglia bene. Papà! Per me è meno male che c'è papà. Pensano sia un raggio di sole. Pensano sia un raggio di sole.